allora la partita era molto difficile veniamo da risultati diciamo nella stragrande maggioranza positivi però loro sono un'ottima squadra hanno quattro punti più di noi sono rimasti a quattro punti più di noi visto il risultato però il risultato come hai visto te 1 1 1 tiratissimo abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio abbiamo avuto l'occasione anche per andare sotto però oggi la porta era un po difficile prenderla però devo dire che gli avversari un'ottima squadra ma non siamo stati di meno l'obiettivo resta la salvezza quello che verrà partita dopo partita lo analizzeremo e lo capiremo nel corso delle prossime partite però l'obiettivo resta la salvezza e stiamo cercando di fare i passi per ottenerla quanto prima possibile